Ciao a tutti ragazzi come andiamo? Bentornati qui sul canale Times Gadget Oggi si continua il tour delle recensioni dei migliori accessori, migliori cover per questi nuovi iPhone 14 Ma oggi però andiamo a vedere un paio di accessori che sono disponibili per gli iPhone precedenti Da tutti gli iPhone con MagSafe in su, quindi dal 12 fino ai nostri 14 e 14 Pro Sia per quanto riguarda le cover, ma sia anche per quanto riguarda questo accessorio Che è un accessorio un po' universale come sicuramente avete capito E si tratta di un accessorio della Zira, in pratica è una basetta di carica wireless 3 in 1 Molto interessante sotto alcuni aspetti, sotto il lato del design, sotto anche la portabilità Molto bella, mi è piaciuta Sono stato un po' interessato e incuriosito a provare questo prodotto perché l'ho visto Come sicuramente in molti colori già vi sarà capitato L'ho visto anche io in diversi post su Instagram, in diversi reel Anche in diverse altre recensioni di canali italiani e non E mi ha incuriosito, ho detto ok, proviamolo e vediamo Allora sono due settimane che lo sto utilizzando E purtroppo devo dire che non sono rimasto così entusiasta come gli altri canali Come hanno descritto tutti, come sia questa qui un'ottima basetta Purtroppo no ragazzi, infatti ho voluto portarvi questa recensione Anche un po' per dovere di cronaca Non solo per parlarvi di come va la basetta sui dati positivi Ma anche su quali sono i lati negativi Che secondo me è un peccato Però ci sono alcune tipi di cose, alcune cavolate secondo me Che potevano sicuramente farle meglio E che non vi hanno fatto presente in tante altre recensioni o post Ecco perché oggi ho voluto portarvi questa basetta qui sotto la nostra lente Allora, prima di tutto si parla di una basetta come ho fatto vedere prima 3 in 1 E sono partito un po' dalla mia domanda iniziale Da quando ho iniziato a provare questo tipo di accessorio E visto che abbiamo un modello molto simile, originali Apple Può valere la pena questo accessorio come valida alternativa a quelli originali Dato che quello originale ha un costo di 150-130€ Questo invece chiaramente il costo si abbassa E siamo intorno ai 49€ 59€ se volete anche il cavo Per esempio in confezione non vi esce Vi uscirà solamente questo cavo, che è un cavo USB-C USB-C Con il manuale di istruzioni, con la guida rapida Che adesso noi andiamo a mettere da parte Ma se volete c'è un pacchetto sul sito ufficiale dell'azienda Non lo trovate purtroppo su Amazon In cui vi offrono anche questo loro cavo Un cavo abbastanza lungo, poi bello, fatto bene Anche rinforzato qua, dai lati, anche qui sugli attacchi Anche con la gommatura qui da questa parte per prenderlo meglio USB-C USB-C, tutto rinforzato in corda Quindi fatto anche molto bene Mi piace anche perché è molto lungo Però oltre a questo poi all'interno Tornando adesso al nostro prodotto principale Andiamo a trovare questa basetta di ricarica Che come vi dicevo si apre un po' come quella originale Apple Troviamo anche altri prodotti di tante altre aziende Che hanno ormai fatto e proposto per i loro accessori Che devo dire interessante perché si presenta bene Anche a livello di touch and feel Non solo per la chiusura, tutta magnetica Quindi non si va ad aprire da solo Ogni scompartimento lo potete aprire singolarmente Oppure anche in questa maniera per esempio doppio Volete avere il telefono e l'Apple Watch Lo potete fare oppure volete avere un secondo accessorio E l'Apple Watch lo potete sempre fare In pratica abbiamo da questa parte la ricarica wireless senza MagSafe Da questa parte invece con il MagSafe Centrale abbiamo lo scompartimento per l'Apple Watch Che si può sia alzare che abbassare I due led di stato che significano se sono in ricarica Le due basette sinistra e destra E poi abbiamo da questa parte invece la porta USB-C qui sotto Come dicevo il design mi piace perché comunque è funzionale È bello, è portatile, si può richiudere E anche lo spessore è minimale E oltretutto abbiamo un peso anche molto molto contenuto Quindi mi piace anche sotto questo aspetto Lo possiamo utilizzare anche poi in un'altra variante in questa maniera Che adesso poi parlerò anche di questa variante Perché non mi è piaciuta? L'idea c'è, va bene, ma poi andiamo a vedere all'atto pratico Non è così pratico Però mi piace anche perché è tutta rivestita in un TPU Leggermente soft touch, bellissimo al tatto Sia la base esterna, sia quella interna Sia anche poi le giunture qui sono tutto in questo TPU Molto premium e questo qui è un aspetto che mi è piaciuto tanto Però, cosa è che non mi è piaciuto tanto? Allora, prima di tutto l'andiamo ad attaccare Io ho preparato qui un cavo per poterla attaccare al volo sotto mano Allora, in pratica, una volta attaccata Mi piace perché i due LED subito si accendono in rosso E si accendono in celeste, in blu Solamente quando andiamo a mettere un dispositivo in ricarica Sia sulla parte destra che su quella sinistra Sull'Apple Watch chiaramente non c'è nulla Perché, vabbè, è chiaro che se lo andiamo a mettere Ce ne accorgiamo quando è in ricarica Anche se delle volte non si va sempre a ricaricare Perché la basetta si va un po' a sprofondare qui sotto Un po' troppo E delle volte il cinturino, seppur questo qui è piatto Lo va un po' a rialzare E delle volte non è dei migliori attacchi Però, a questo qui c'è la soluzione Perché comunque si può alzare in questa maniera Lo chiudete così con un cinturino Questo è comodo anche se, per esempio, avete uno di quei cinturini Tipo della spigana, tipo questo qui Che non si può aprire in piatto E' chiaro che su qui lo mettete così Che vi è più comodo E in questa maniera si ricarica bene Però, il primo punto che non mi è piaciuto È che per l'Apple Watch Abbiamo una ricarica decisamente troppo lenta La ricarica è 2,5 W Allora, considerate che io ho un Apple Watch 5 Quindi non ho una ricarica rapida Come sui modelli di ultima generazione I miei vengono in mente il 7, l'8 o il 6 anche Che aveva già una ricarica leggermente più rapida L'Ultra ce l'ha Ma mi sembra che non è rapida come l'8 Però, il 2,5 W è veramente poco Io su questo qui, col cavo originale Lo carico a 5 W E già ci mette un'oretta e mezza Quasi 2 per caricarsi da 0 a 100 Con questo è veramente troppo lungo Ecco, questo qui è un primo Neo Che mi ha fatto un pochino storcere il naso E' chiaro che non si poteva avere tutto Però una ricarica un pochino più veloce La potono pure mettere Secondo punto Qui abbiamo 15 W E qui 5 W Però ho fatto caso che la ricarica Non è sempre costante Non sembra che sia sempre 15 W Quando si vanno poi a caricare tutto e tre Sembra che si va poi a perdere Quindi avete una ricarica piena a 15 W Quando attaccate solamente questo Però ho fatto caso che La ricarica rapida poi Non la si ottiene Quando si va a mettere un altro accessorio Da questa parte poi si va a splittare Vedete? Adesso mi ha detto Ricarica wireless da questa parte Se lo vado a togliere Adesso lo andiamo a ripoggiare L'altra volta poi mi ha detto Ricarica rapida Adesso non so perché Non me lo dice più Comunque Abbiamo il 15 W Però vedete Non è sempre compatibile Perché se fosse stato realmente 15 W Fisso Sul mio Samsung Non sull'iPhone Perché purtroppo Non abbiamo qui La possibilità di capire Se sta ricaricando Velocemente o no Comunque sull'iPhone Non compare Però sul Samsung Non sarebbe apparsa Sulla scritta sul display Ricarica rapida Wireless Perché non parliamo di 7.5 Ma bensì di 15 W Quindi già questo È un altro punto Che mi ha fatto un pochino Storcere il naso Mi piace perché Comunque ci sta Il fatto che abbiamo Un Mac Safe da una parte E non dall'altra È normale Mi piace che possiamo caricare Anche solo un accessorio O anche solo due In questa maniera O anche solo quello singolo Lo possiamo girare Come volete Non mi è piaciuto però Per esempio Anche questo fattore Quando lo andiamo ad attaccare così Che in molti hanno detto No ma è comodissimo La piramide messa così Lo potete mettere E attaccare Per reggere il vostro iPhone Guardate qui Cioè mi devono spiegare Chi Non solo chi ha pensato A questa cosa Ma anche chi L'ha provata prima Come fanno a dire Che si regge l'iPhone Se io ho il 14 Pro Non il 14 Pro Max Quindi più piccolo dei due E non mi si regge Considerando anche Il Mac Safe dell'iPhone Ma se io vado a mettere Una qualsiasi cover Ecco per esempio L'azienda ha anche Questa cover Adesso colgo l'occasione Per introdurvela Allora in pratica Mi ha mandato anche questa cover Non ve la voglio far vedere All'inizio Perché la cover ha un costo Di 25€ E secondo me Non ne vale la pena Ragazzi Già ve lo dico Perché per una cover Tutta totalmente trasparente Che poi col tempo Si va pure a ingiallire Secondo me I 25€ Sono troppi Oltretutto Sì ok Va a proteggere Perché abbiamo Un pochino Qualche angolo Rinforzato qui Su tutti e quattro gli angoli Però considerate Che è T più normale Guardate È leggermente Più rigida Qui dietro Però Non è che c'è Qualche tipo Di protezione Particolare Qualche tipo Di sistema Che va Ad assubire Ulti e cadute Per cui Possiamo giustificare Il prezzo Di 25€ Secondo me È esagerato Questa qui Era una cover Come un po' Anche Per le Spigen Che per quelle Tutte Naturalmente Rasparenti O per tante altre aziende Si poteva mantenere Tranquillamente Su un costo Su una fascia Di costo Tra i 10 E i 15 14€ Massimo Ma di più Secondo me È eccessivo Ecco perché Questa qui Per esempio È una cover Che non vi consiglio Oltre al fatto Che a me Poi è capitato Un modello E non capisco Il motivo Non capisco Come Ci può stare Forse Una produzione Di massa Ma non Penso anche Forse Non sarà nemmeno L'unico modello E 25€ Non ci può essere Un errore di questo genere Il make safe A me è decentrato Rispetto alla mela E non capisco Come sia potuto succedere Ok ci possono stare Questi errori Di produzione Però Comunque sta di fatto Che a me È decentrato la mela Vedete È leggermente più su Perché questo qui È stato leggermente Spostato verso Il basso Anche questo Non è un errore Che dovrebbe capitare Su un accessorio Di questa fascia di prezzo Potrebbe capitare Quelle da 7-8€ Di aziende sconosciute O da 10€ E non capita Certe volte Neanche in quei casi Su queste invece capita Il bordo Per esempio Qui dietro È abbastanza alto Sulle fotocamere Quindi deve proteggere Per il resto I pulsanti spingono bene Si tiene anche bene in mano Anche perché è tutta In silicone Tutta in TPU Quindi fa un po' L'effetto ventosa E quindi va bene Però per il resto Non è nulla di che Nulla di particolare Però Come stavo dicendo prima Anche utilizzando questa Non si riesce a caricare In molti Mi hanno fatto vedere No ma si può caricare Anche così Ma non è vero ragazzi Non si riesce a caricare Assolutamente Perché quando lo si mette così Non c'ha una potenza Talmente tanto forte Questo attacco qui Che può mettere in carica Il telefono Forse è così Ecco Ma lo dovete provo a appoggiare Ma non è che sta attaccato Perché non si attacca qui Questo Adesso arriviamo poi Al secondo neo Che non mi è piaciuto Che non ne ha parlato nessuno Non capisco come E perché Comunque anche così Lo potete appoggiare Un po' sul tavolo Così Ma è un po' alla buona Quindi Non si può caricare Come in quella posizione A triangolo Ma l'altra cosa Mi ha fatto veramente Tanto un po' stranire Di questa basetta Che secondo me È una colata Che secondo me La potevamo anche studiare Un pochino meglio E mi viene il dubbio Se l'hanno provata o no A questa basetta Con questi tipi di iPhone Qual è? Allora Che in pratica Noi abbiamo Come sapete Le fotocamere che sporgono Quindi quando andiamo a appoggiare Le aziende devono sempre considerare Che c'è il bordo Qui della camera Attualmente Soprattutto su questi iPhone 14 Che va a sporgere E guardate qui Su questo modello Non si lascia attaccare Tanto bene il MagSafe A parte che non è così potente Ma non si lascia attaccare bene Perché in pratica Il comparto fotografico Tocca Guardate Tocca qui sotto E quindi Il MagSafe Non va mai Completamente in piano E attaccarsi A 360 gradi Al telefono Perché non è possibile Perché in pratica Non può attaccarsi Dato che Sempre le camere qui Che sporgono Che vanno a toccare Qui sul bordo esterno E questo succede Non solo quando abbiamo Il telefono senza cover Anzi qui succede anche di meno Ma in particolar modo Allora ce l'abbiamo Soltutto quando abbiamo Delle cover Come quella loro poi originale Ufficiale Zira Che è il bordo più alto Qui sotto Su questo modello Vi faccio vedere Entra in carica Ma Il MagSafe non funziona Per quale motivo? Perché qui Guardate Lo spazio Aumenta anche Perché in pratica Questo bordo Essendo più alto Rispetto alle camere Va a toccare ancora di più E quindi crea Tutto questo spazio vuoto Guardate quanto spazio vuoto Che c'è Questo triangolo Che si forma Quindi il MagSafe In questo caso Si appoggia solamente Nella parte qui sotto Prima di tutto Non fornisce Una totale ricarica rapida Perché il MagSafe Perché il MagSafe È stato fatto apposta Proprio per poter Centrare al medio Il telefono E avere un'ottimizzazione Anche proprio per la ricarica In modo tale che sappiamo Che una volta Che si appoggia la calamita Lì è un punto centrale Dove si può sfruttare La massima velocità Anche che possono offrire Le basette Ma in questo caso Però Né funziona Il MagSafe Né come dicevo Vi ricarica Ma è anche Difficile Delle volte Anche andarla a centrare Perché delle volte Non entra in ricarica E a me è successo Ma è anche pericoloso Perché comunque Lo mettiamo così La notte Prima di andare a dormire Pensiamo che si sia attaccato Non lo vediamo Perché delle volte Può succedere Che l'appoggiamo solamente E il telefono Poi la mattina dopo È scarico Perché non è mai entrato In ricarica E questa cosa succede Con tutte le cover In pratica Io adesso L'ho provata un po' tutte Da quella originale Anche quella della D-Brand E con tutto che ha Il bordo più basso Ma li dà fastidio Poi questo bordo qui Invece che più alto Per non parlare Di quelle spighe Che molte Come questa qui Non è proprio fattibile Non si può utilizzare L'unica con cui Può essere utilizzata Per esempio È con la mouse Perché la mouse E questa qui È la nuova versione Della mouse Quella in carbonio Che a breve Poi vi arriverà Anche nei prossimi giorni La recensione Di tutte le nuove Cover mouse Che mi sono arrivate In questi giorni Davvero bellissime Poi tutto ragazzi Tra parentesi La mouse però È l'unica azienda Fra quelle che ho Adesso attualmente Anzi insieme alla Quadlock Sono le uniche due Che hanno pensato Di asottiliare Il bordo qui sotto Questo perché Probabilmente anche loro Avevano lo stesso problema Con alcuni loro accessori Quindi In questo caso Qui è l'unico modello Guardate Dove si va Esattamente a posizionare Qui si va A attaccare Precisamente Qui abbiamo Un MacSafe più forte Qui abbiamo Anche la compatibilità massima Con Per quanto riguarda La ricarica rapida Qui funziona bene Ma con tutto il resto Delle cover Adesso ho provato Per esempio Anche con quelle più sottili Con la Keseology Con tutto che ha Un bordo sottile Qui sotto Ok proviamo Niente Il telefono si va a spostare Se voi non volete Attaccarlo Col MacSafe Lo dovreste spostare Anzi se voi non volete Avere lo scalino qui Lo dovreste spostare Più sopra In modo tale che la camera Scavalca Oltre il bordo Ok il telefono Si va a ricaricare Però non utilizza Il MacSafe Quindi con un attimo Anche quando vibra E ve lo posso assicurare E ve lo posso dire Perché l'ho provato Vi arriva una chiamata Durante la notte O un messaggio Più messaggi Più mail Il telefono vibra E si va Leggermente a spostare Perché comunque Non fornisce Nessun tipo di clip Dato che Qui il MacSafe Non si attacca Quindi l'ho provato Con tutti gli altri modelli Per non parlare anche Delle Pitaca Quella sia la Pro Che quella Slim Anche con la Enzo E anche con Quella che seologi Per esempio Con le Skyfall Che abbiamo questo bordo Qui Questo qui in pratica È impossibile L'unico altro modello Come vi dicevo È la Quad Lock Che abbiamo un bordo Che si va a sottiliare Sia sulla parte destra Che su questa qui inferiore Quindi su queste Diventa compatibile Anche perché Qui abbiamo un MacSafe Che è tutto totalmente in piano Con tutta la parte dietro Per la fotocamera E con il bordo Quindi qui È compatibile Poi per il resto Ragazzi Purtroppo Mi trovo a Non poter promuovere A pieni voti Questa basetta E mi lascia anche Un po' perplesso La cosa che Molti che l'hanno recensita Molti che l'hanno anche Fatta vedere nei post Non hanno parlato Di tutti questi problemi Che sono problemi Secondo me Non proprio di poco conto Perché Molti di voi Sicuramente Avranno pensato Ok Adesso mi sono fatto Le nove cover Mi serve una basetta Di questo genre Perché è comoda E portatile E tutto Si può portare in viaggio L'andate a comprare E solo dopo scoprite Che poi il telefono Non si può attaccare Non si può posizionare La ricarica Non è così veloce Come viene di grata Quella di Apple Watch Ricarica più lentamente Di quello anche Che vi aspettavate Quindi vi troverete Davanti a una basetta Che a 49 euro Non fa proprio Quello che dice O che viene detto Dall'azienda Quindi Ecco perché vi ho portato Questo tipo di recensione Anche proprio per Una correttezza Di informazione Per farvi sapere Che cosa Andate incontro Se acquistate Un prodotto di questo genere Perché poi per il resto È funzionale Come ho detto Mi è piaciuto Sotto alcuni aspetti È chiaro che se voi Non vi interessa La ricarica rapida Dell'Apple Watch Non vi interessa L'iPhone Che non si attacca bene Ma mi interessa Semplicemente Una basetta Di questo genere Da viaggio Con questo tipo di design E non volete Spenderci 150-120 euro Per quello originale Allora sì Ok Però adesso Sta a voi fare Le vostre valutazioni Io adesso Vi ho esposto Vi ho voluto esporre Sia gli aspetti Positivi Che quelle negativi Di questo tipo di prodotto Come al solito Trovate tutti i link Qui sotto in descrizione Al sito dell'azienda Perché purtroppo Non è ancora disponibile Su Amazon Nel caso arriverà A breve Vi aggiungerò Anche in questo caso I link Direttamente su Amazon.it O se nel caso Arriverà su Amazon.com Vi metto anche quello lì Per tutto il resto Trovate tutte le altre informazioni Qui sotto in descrizione Dove troverete anche Poi il link Al canale di Instagram E mi raccomando Invito anche sempre A iscrivervi A seguirmi Anche su quel canale Dove vi posto Tutta una serie di anteprime Di prodotti Che mi arrivano In anteprima Appena mi arrivano Posto prima le foto E reel Lì su Instagram Poi arrivano Le recensioni complete Qui sul canale E troverete anche Il link direttamente Al gruppo di Telegram Dove vi condivido Tutta una serie di promozioni Di offerte Vi condivido Proprio i prodotti Che vado a recensire E vi condivido E ve lo dico Perché me l'avete chiesto In tanti Anche tutti I wallpaper Che utilizzo Nelle varie recensioni O che vedete anche Nei vari post Foto E reel Su Instagram O anche sui altri Social network Quindi Tutta questa roba La trovate tutta Qui sul canale Di Telegram Detto questo Se vi è piaciuto Questo video Mi raccomando Un bel like Mi fa sempre Molto piacere E iscrivetevi Anche qui sul canale YouTube Cosa che ci tengo Particularmente E che poi a voi Non costa nulla Noi ci vediamo Sicuramente Alla prossima Video recensione Per il prossimo Accessorio O anche forse Video vlog Chi lo sa Comunque Da Dan's Gadget Per Giorgio Buona giornata A tutti ragazzi E grazie ancora For all time sake E grazie a tutti